Aperidea sono piccoli aperitivi del pensiero, brevi provocazioni sulle questioni fondamentali della vita, che cos'è il desiderio, se Dio esiste, che cos'è la morte, piccole meditazioni per suscitare l'invito a continuare a pensare, con piccoli esercizi che ci possono aiutare a continuare a riflettere e mantenere viva quel grande dono che è la nostra capacità di pensare. Allora da novembre Aperidea sulle frequenze di Radio Più.